Cari amici, molti di voi mi conosceranno, mi presento brevissimamente per chi non mi conosce ancora, invece sono Giorgio Riccardini, autore e curatore del volume L'usciere maledetto di Palazzo Vecchio con Alessandro Maiorano sulla vita del grande difensore civico fiorentino. Detto brevemente questo, oggi voglio parlarvi brevissimamente della notizia del giorno che è il rinvio al 20 novembre dell'udienza del processo a Salvini. Il GUP vuole vederci chiaro e perciò chiede tempo, chiede ulteriori accertamenti e vuole sentire appunto Conte Toninelli, il quale non sappiamo se si presenterà in monopattino, ma comunque questo è un particolare secondario, ma il fatto importante è che sarà sentito insieme appunto al premier Conte e insieme anche a Di Maio. Questa news può avere un carattere ambivalente, si può dare un carattere opposto, due tipi di lettura, una diciamo positiva, una negativa. Quella positiva è che il GUP abbia ben chiaro che Salvini non era un unicum ma faceva parte di un governo e che le decisioni e le responsabilità delle decisioni sono collegiali, in primis il premier non può mai non assumersi la responsabilità dicendo che determinate cose le hanno fatte i suoi ministri. Questo è fuori dal mondo, Conte ha provato a fare anche questo ma è fuori dal mondo, non è mai esistito ed è proprio una cosa anche da ignoranti giuridici, quindi è una tesi che non sta in piedi. Il GUP probabilmente se ne è reso conto, quindi se ci sono dei reati, se ci fossero dei reati, devono essere perseguiti non solo Salvini ma anche in primis il Conte, Di Maio, Toninelli e tutti i membri del governo sono allora in carica, tutti i membri, nessuno escluso. Se invece, seconda ipotesi, non ci sono reati, allora anche Salvini naturalmente deve essere prosciolto. Quindi delle due l'una, le chiavi di lettura, le possibili letture sono queste. E quindi vedete che questo processo che doveva condannare Salvini ci riserva delle sorprese, sembra proprio riservarci delle sorprese, perché o non condannerà nessuno, o potrebbe condannare tutto il governo, soprattutto Conte, soprattutto Conte, soprattutto Conte, che era il presidente del Consiglio. Lui non se lo ricorda, lo ha rimosso questo fatto, questo piccolo dettaglio, glielo ricordiamo noi, come ricordiamo anche, ancora una volta, perché il marketing è importante, il mio volume, L'usciere maledetto di Palazzo Vecchio, che potete trovare in tutte le librerie e anche negli store online. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Viva l'Italia!